Un'apa è un vento violentissimo che sta attraversando l'agro di San Nese già da ieri sera. Un vento violento che sta creando non pochi problemi alla vegetazione che si trova sulle strade e si marcia a piedi. Qui siamo a Piazza San D'Alfonso e è dovuta venire la squadra degli addetti. Purtroppo alcuni rami sono stati dovuti essere tagliati perché erano di pericolo per la cittadinanza. Non è successo ancora niente di grave, fortunatamente, a parte qualche tegola che è volato, qualche ramo che si è staccato, ma fortunatamente il tutto è sotto controllo. Sono presenti i vigili urbani che si sono allontanati da qualche minuto e in più rimangono qui in attesa che venga la squadra per rimuovere quei rami che stanno a terra e che sono stati purtroppo tagliati perché erano rimasti appicciati all'albero e creato dei problemi. A causa di queste forti raffiche di vento è venuto giù quasi un albero per intero come si può vedere dalle immagini e grazie a Dio non ha causato danni né a cose né a persone. Dobbiamo fare attenzione non soltanto qui, anche in altre parti del nostro territorio. C'è la preoccupazione che qualcosa giù dai tetti possa cadere, qualche tegola è già caduta, ma grazie a Dio, ripeto, riteniamoci fortunati perché ad oggi non è ancora successo niente. Grazie a tutti.